laudentur jesus et maria carissimi amici e amiche sia da tutti bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a maria di magdala negli scritti di maria valtorta siamo giunti a ad un punto focale della narrazione perché oggi c'è un capitolo lunghissimo non so se riusciremo a esaurirlo tutto nell'arco di una sola puntata che lunghissimo e drammatico perché è la narrazione anzitutto della morte di lazzaro ma poi è il contorno assolutamente drammatico perché lazzaro durante il delirio della morte purtroppo in presenza della sorella maria e quindi ascolta tutto quello che lazzaro dice e vivrà un momento molto molto drammatico nel senso che sarà un momento forte perché purtroppo lazzaro nel momento della morte come ascolteremo ripeto non so che l'ultima parte del capitolo di oggi non so se se ci arriveremo a leggere a commentarlo è però rievoca in termini diciamo così ripeto drammatici le le prodezze diciamo così della vita di peccato di di maria davanti a lei e quindi evidentemente procurandogli una coltellata devastante al cuore un dolore immenso peraltro incontro l'acchile perché lazzaro stava delirando e quindi all'interno del delirio come dire ha tirato fuori tutte le sofferenze vissute per tanti anni quando questa donna ne sta facendo di ogni giro dappertutto causando da prima sofferenze immense a alla madre che è la morte di grepa cuore e poi ovviamente anche a ai familiari ecco comincio la lettura perché appunto il capitolo è abbastanza ampio e articolato cercherò di alleggerirne diciamo la portata con qualche pausa e cercando di leggerlo per quanto posso al meglio voce permettendo dunque il capitolo si intitola il ricordo del suo passato nel delirio del fratello che muore titolo appunto molto ben fatto emblematico hanno aperto tutte le porte e le finestre nella stanza di lazzaro per renderli meno difficile la respirazione e intorno a lui che assente in coma un coma pesante simile a morte dalla quale riferisce unicamente per il movimento del respiro sono le due sorelle massimino marcella e noemi intenti ad ogni minimo atto del morente ogni volta che una contrazione di spasimo altera la bocca e pare che essa si atteggi a parlare o che gli occhi si scoprano per un socchiudersi di palpebra le due sorelle si chinano per afferrare una parola uno sguardo ma è inutile non sono che atti scoordinati indipendenti dalla volontà dall'intelligenza che sono ambe due ormai inerti perdute atti che vengono dalla sofferenza della carne come da essa viene il sudore che fa lucido il volto del morente e il tremito che ad intervalli scuote le dita scheletrite ed ha ad esse una contrazione di artiglio anche lo chiamano le due sorelle con tutto l'amore nella loro voce ma il nome e l'amore cozzano contro le barriere dell'insensibilità intellettiva ed è a risposta del loro chiamare il silenzio che hanno le tombe noemi piangente continua a mettere contro i piedi certo gelati mattoni avvolti in strisce di lana marcella tiene fra le mani un calice nel quale pesca un lino sottile che marta usa per bagnare le labbra aride del fratello maria con un altro lino asciuga l'abbondante sudore che scende a strisce dal volto scheletrito e che bagna le mani del morente massimino appoggiato ad uno stipo alto e scuro presso il letto del morente osserva stando in piedi dietro le spalle di maria che curva sul fratello nessun altro il massimo silenzio come fossero in una casa vuota in un luogo deserto le ancelle che portano i mattoni caldi hanno i piedi scalzi e non fanno rumore sul pavimento marmoreo sembrano apparizioni maria ad un dato momento dice mi sembra che nelle mani torni il calore guarda marta è meno pallido nelle labbra sì anche il respiro è più libero lo guardo da qualche tempo osserva massimino marta si china e chiama piano ma con accento intenso lazzaro lazzaro oh guarda maria ha avuto come un sorriso e un battere di palpebra migliora maria migliora che ora abbiamo abbiamo oltrepassato di un tempo il vespero a e marta si raddrizza stringendo le mani sul petto alzando gli occhi verso l'alto in un visibile atto di muta ma fiduciosa preghiera un sorriso per rischiare il volto gli altri la guardano stupiti e maria e maria le dice non vedo perché l'essere oltre il vespero ti debba fare felice e la scruta sospettosa ansiosa marta non risponde ma si riprende nella posa che aveva prima entra un'ancella con dei mattoni che passa a noemi maria le ordina porta due lumi la luce decresce e io voglio vederlo la serva esce senza rumore e torna presto con due lucerne accese che depone una sullo stifo contro il quale massimino e l'altra su un tavolo ingombro di pende e anforette posto all'altro lato del letto oh maria maria guarda è proprio meno pallido è di aspetto meno finito si rianima dice marcella dategli ancora qualche stilla di quel vino con gli aromi che ha preparato sara gli ha fatto bene suggerisce massimino maria prende dal piano dello stipo una foretta dal collo esilissimo a becco d'uccello e con precauzione fa scendere qualche goccia di vino fra le labbra socchiuse vada giomaria che egli non soffochi consiglia noemi oh inghiotte lo cerca guarda marta guarda sporge la lingua cercando tutti si chinano a guardare e noemi lo chiama tesoro guarda la tua notrice anima santa e si fa avanti a baciarlo guarda guarda noemi beve la tua lacrima gli è caduta presso le labbra ed egli ha sentito e l'ha cercata e assorbita oh gioia mia avessi ancora il latte di una volta te lo spremerei goccia goccia in bocca mio agnellino se dovessi spremermi il cuore e morire poi intuisco che noemi nutrice di maria sia stata anche nutrice di lazaro padrone è tornato nicomede dice un servo apparendo sulla soglia che venga che venga ci aiuterà a farlo migliorare osservate osservate apre gli occhi muove le labbra dice massimino a me stringe le dita con le sue dita grida maria e si china dicendo lazaro mi senti chi sono lazaro apre proprio gli occhi e guarda uno sguardo incerto velato ma è sempre uno sguardo muovi a faticare labbra e dice maria sono maria tua sorella mamma non ti riconosce e chiama sua madre i morenti sempre così dice noemi con il volto lavato di pianto ma parla dopo tanto parla è già molto poi starà meglio oh mio signore premia la tua serva dice marta con ancora quell'atto di fervida e fiduciosa preghiera ma che ti è accaduto forse hai visto il maestro ti è apparso dimmelo marta levami d'angoscia dice maria l'entrata di nicomede impedisce la disposta tutti si volgono a lui raccontando come dopo la sua partenza lazaro si fosse aggravato tanto da giungere a morte e morto già lo avevano creduto e poi con dei soccorsi avevano potuto farlo rinvenire ma al respiro soltanto e come da poco dopo che una delle loro donne aveva preparato un vino con aromi aveva ripreso calore e aveva inghiottito cercando di bere e anche aveva aperto gli occhi e parlato parlano tutti insieme con le loro speranze riaccese gettate contro la pacatezza quanto scettica del medico che li lascia parlare senza dire una parola finalmente hanno finito ed egli dice va bene lasciatemi vedere e gli scansa accostandosi al letto e ordinando di avvicinare i lumi e chiudere la finestra volendo scoprire il malato si china su lui lo chiama lo interroga fa passare la lucerna davanti al volto di lazaro che ora gli occhi aperti e sembra come stupito di tutto poi lo scopre ne studia il respiro i battiti del cuore il calore la rigidità delle membre tutti sono ansiosi in attesa della sua parola Nicomedia ricopre il malato lo guarda ancora pensa poi si volta a guardare gli astanti e dice è innegabile che hai ripreso vigore attualmente è migliorato da quando lo vidi ma non vi illudete non è che il fittizio miglioramento della morte ne sono tanto certo come certo ero che alla fine che come vedete sono tornato dopo essermi liberato da ogni impegno per rendergli meno penosa la morte per quanto mi è concesso di farlo o per vedere il miracolo se avete provveduto sì sì Nicomede lo interrompe Marta e per impedirgli altre parole dice ma non avevi detto che entro dei giorni io piange ho detto sono un medico vivo tra agonie e pianti ma l'abitudine a vista di dolore non mi ha ancora dato cuore di pietra e oggi vi ho preparate con un termine abbastanza lungo e vago ma la mia scienza mi diceva che era più sollecita la soluzione ed il mio cuore mentiva per un pietoso inganno non si sa mai sino a quel punto i morenti intendano le spinge fuori in lacrime ripetendo siate forti siate forti presso il morente resta Massimino anche il medico si allontana per preparare dei medicamenti atti a rendere meno angosciosa l'agonia che dice prevedo dolorosa molto fallo vivere fallo vivere fino a domani è quasi notte lo vedi un nicomede cosa è per la tua scienza tener destra una vita per meno di un giorno fallo vivere domina io faccio ciò che posso ma quando lo stamme è finito non c'è nulla che mantenga la fiamma risponde il medico e se ne va le due sorelle si abbracciano piangendo desolate e chi piange di più ora è Maria l'altra ha la sua speranza in cuore la voce di Lazzaro viene dalla stanza forte imperiosa e le fa trasalire perché inaspettata in tanto rangore le chiama Marta Maria dove siete voglio alzarmi vestirmi dire al maestro che sono guarito devo andare dal maestro un carro subito e un carro veloce certo è lui che mi ha guarito parla veloce scandendo le parole seduto sul letto acceso di febbre cercando di gettarsi dal letto trattenuto dal farlo da Massimino che dice alle donne che entrano correndo delira no lascialo andare il miracolo il miracolo oh sono felice di averlo suscitato appena Gesù ha saputo Dio dei padri sii benedetto e lodato per la tua potenza e per il tuo Messia Marta caduta in ginocchio è ebra di gioia intanto Lazzaro continua sempre più preso dalla febbre che Marta non comprende essere causa di tutto è venuto tante volte da me malato è giusto che io vada da lui a dirgli sono guarito guarito sono non ho più dolori sono forte voglio alzarmi andare Dio ha voluto provare la mia rassegnazione sarò detto il novello Giobbe prende un tono ieratico gestendo larghi gesti il Signore si commosse della penitenza di Giobbe e gli rese il doppio di quanto aveva avuto il Signore benedisse gli ultimi anni di Giobbe più ancora dei primi ed egli disse sino a ma no che non sono Giobbe ero fra le fiamme e me ne ha tratto ero nel ventre del mostro e torno alla luce dunque sono Giona e i tre fanciulli di Daniele sono sopraggiunge il medico chiamato da qualcuno lo osserva è il delirio me lo attendevo la corruzione del sangue accende il cervello si sforza a riadaggiarlo e raccomanda di tenerlo e torna fuori ai suoi decotti Lazzaro un poco si inquieta di essere tenuto e un poco piange come un bambino alternativamente è proprio un delirio geme Maria no nessuno capisce nulla non sapete credere ma già non sapete a quest'ora il maestro sa che Lazzaro è morente si l'ho fatto Maria l'ho fatto senza dirti nulla ah sciagurata hai distrutto il miracolo grida Maria ma no egli lo vedi ha iniziato a migliorare dall'ora che Gion ha raggiunto il maestro delira certo è debole e ha ancora il cervello annebbiato dalla morte che già lo teneva ma non delira come il medico crede sentilo sono parole di delirio queste infatti Lazzaro dice ho chinato il capo al decreto di morte e ho gustato quanto sia amaro e morire ed ecco che Dio si è detto pago della mia rassegnazione e mi rende alla vita e alle sorelle potrò ancora servire il Signore e santificarmi insieme a Marta e Maria a Maria cosa è Maria Maria è il dono di Gesù al povero Lazzaro me lo aveva detto quanto tempo da allora il vostro perdono farà più di tutto mi aiuterà me lo aveva promesso ella sarà la tua gioia e quel giorno che ero inquieto perché perché ella aveva portato la sua vergogna qui presso il Santo che parole per invitarla a ritorno la sapienza e la carità si erano unite per toccare il cuore a lei e l'altro che mi trovò che mi offrivo per lei per la sua redenzione voglio vivere per godere di lei redenta voglio con lei lodare il Signore fiumi di lacrime affronti vergogna amarezza tutto mi ha penetrato e ucciso la vita per causa di lei ecco il fuoco il fuoco della fornace ritorna con ricordo Maria di Teofilo e di Euceria mia sorella la prostituta poteva essere regina e si è fatta fango che anche il porco calpesta e mia madre che muore e il non poter più andare fra la gente senza dover sopportare i suoi scherni per lei dove sei sciagurata ti mancava il pane forse per venderti come ti sei venduta cosa hai succhiato dal capezzolo della nutrice tua madre che ti ha insegnato lussuria una peccato l'altro l'altra va via disonore disonore della nostra casa la voce è un urlo sembra pazzo Marcella e Noemi si affrettano a chiudere medicamente le porte e a ricalare le tende pesanti per attutire le risonanze mentre il medico tornato nella stanza si sforza inutilmente di calmare il delirio che diventa sempre più furioso Maria gettata a terra come uno straccio si inghiozza sotto l'inesorabile accusa del morente che prosegue prima di sentire il seguito che è molto più incisivo dell'esordio facciamo una piccola pausa anche per staccare un po' così ci riposiamo tutti sia gli ascoltatori ecco nello sforzo di seguire una lettura che spero essere il meno pesante possibile che anche mia per staccare un pochino dalla concentrazione appunto del testo letto allora un primo bilancio fondamentalmente duplice due tre punti da da fare attenzione numero uno la disobbedienza a Dio non porta mai buoni frutti nonostante l'illusione ci siamo lasciati la volta scorsa lasciando Marta che trasgredendo alla consegna di Gesù aveva mandato questo fidato servo Giona ad avvertirlo che Lazzaro era morente di nuovo a cercare di estorcere il miracolo prima del tempo ed è impressionante anche la come dire la capacità di illusione che c'ha la mente umana quando vuole per forza persuadersi di aver ottenuto qualche beneficio da Dio questo è un punto su cui io avrei da invitare un po' a riflettere perché Dio li concede i benefici tanti ecco ma quando un beneficio è veramente concesso da Dio quello si vede che è un beneficio oggettivo no? qui si vede benissimo come Marta si autoconvince quindi si sforza come dire si obbliga a volerlo vedere a forza qualche idea qualche esempio ce ne sarebbero tanti esperienza pastorale sapete quando capita molto spesso questa questa roba qui con le cose un po' strane ho fatto il sogno X ho avuto l'esperienza Y ho sentito la voce una voce dirmi questa cosa non era una voce proprio come come una voce però era qualche cosa che gli assomigliava guardate c'è un repertorio io ne ho sentite in vent'anni di sacerdozio quasi qua tra poco spengo la ventesima candelina toccherà fare un po' di bilanci di tutti i colori allora mi raccomando nella vita stiamo sempre ai ai fatti oggettivi non andiamo a metterci in testa cose strane guardate che è molto difficile poi farle togliere dalla testa queste cose strane io sistematicamente dico guarda non fare nessun caso a queste cose stai ad altro ma no ma io sono convinto che era Dio che era la Madonna che era questo che era quell'altro dico vabbè dico non sono queste le cose importanti nella vita di fede o di altro quindi stai radicato sulle cose certe e quindi questa questa tendenza quindi questa volontà di andare a vedere per forza il il soprannaturale o peggio ancora quando uno magari e quante ce ne stanno anche di questi esemplari si comincia a pensare di essere una sorta di anima eletta privilegiata o con qualche compito particolare anche di questo repertorio ma mi raccomando estrema attenzione perché adesso qui poi Marta poverina si becca una tale disillusione che se la ricorda per tutta la vita anche se il bersaglio è la sorella quindi si sfracella contro il nulla che è tutto quanto la vasta tematica ascetica e spirituale della cosiddetta illusione spirituale allora figlioli miei cari mi raccomando io dopo vent'anni di sacerdoti di esperienza comincio a preoccuparmi un pochino faccio alcune considerazioni le realtà della fede tutte sono realtà invisibili quindi se uno comincia a fantasticare e andare oltre il seminato uscendo quindi dai canoni di quello che è certo certo ovviamente in un'ottica di fede ma certo sicuro e tranquillo sa quando parte ma non sa quando arriva sa il punto da cui parte ma non sa dove va a finire nelle forme più gravi e purtroppo nella mia esistenza pure questo c'è stato si può aggiungere veramente a sorte di delirio religioso quando questa cosa venisse coltivata 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 ci si può perdere la testa vi prego di fare attenzione quindi sempre mi raccomando calma certamente la testa è rivolta al cielo perché dobbiamo guardare il cielo nel senso di come dice San Paolo è giusto vive di fede ma di fede divina e cattolica poi i piedi bisogna sempre tenerli ben piantati per terra non andare in cerca di queste cose durante più di qualche resoconto dato da gente che combatte con il diavolo è stato riferito ed è proprio sicuro al 100% che il regno del diavolo è la psiche cioè quello che ci frulla dentro il nostro cervelletto all'interno del quale come dire lavorano l'ho detto in alcune cariche sì cioè spinte forze dinamiche per la maggior parte la maggioranza delle quali sono completamente oscure a noi oscure non al diavolo però e attraverso di queste ci fa a mille pezzi ok e un po' se ne mangia a colazione un po' pranzo e un po' cena quindi per favore per il bene di tutti attenzione a queste dinamiche perverse perché ci si rischia di fare tanto male chiaro? altra cosa chi cade in queste perverse dinamiche ahimè è quasi nella maggioranza dei casi non aiutabile non perché non ci sarebbe la possibilità di aiutarlo ma perché la persona non accetterà mai e non riconoscerà mai alcune sue logiche perverse non le riconoscerà mai e quindi bisogna semplicemente fondare la nostra fede sulla roccia fare attenzione e mai uscire vedete qui dei canoni cioè Marta l'ha fatta grossa cioè non si esce dai canoni dell'obbedienza certa Gesù in persona le ha detto fai così ok quando si esce dai canoni dell'obbedienza qui ripeto sempre obbedienza certa quindi perché ho detto in altre circostanze di questi tempi con la scusa dell'obbedienza se ne vedono di tutti i colori quindi qui si tratta di obbedienza certa ad una disposizione assolutamente attribuibile a Dio perché qui la dice il nostro Signore Gesù Cristo in persona cioè come puoi sperare che uscendo da una cosa del genere vai a assortire effetti positivi no ci sono altro meccanismo sottilmente perverso poverina Marta non si rende mica conto di queste cose lei ha agito come dire in buona fede mossa dall'amore eccessivo eccessivo perché appunto ha passato la misura del bene di sorella ma capite che dietro questa cosa c'è anche un'altra insinuazione mentale no cioè io penso meglio di Dio quello è meglio di fare una cosa io decido che faccio altro e vado dietro quest'altro non si possono fare queste cose ecco adesso vedremo qui è cominciato il la requisitoria dell'idrante di Lanzaro andrà avanti questo è un ambito in cui a mio avviso si deve applicare propriamente alla Santa Alfonso il concetto di volontà permissiva di Dio perché adesso Maria si prepara a vivere un bruttissimo quarto d'ora però probabilmente avanti se questo è una mia buona riminiscenza lo troveremo ma mi sembra di ricordare però mettiamoci centomila punti interrogativi che Gesù stesso avrebbe in qualche modo chiusato non so se come commenta un capitolo proprio parlando con lei quando si va se si va a lamentare di questa bruttissima esperienza dice bruttissima lo so ma necessaria ti ha fatto bene ti ha fatto bene per quanto dolorosa perché ha contribuito a stroncare ancora altre robe che si portava dietro le esperienze dolorose che abbiamo vissuto dobbiamo sempre cercare di guardarle dentro questo orizzonte dentro quest'ottica perché questo è certo questo qui e dobbiamo avere sempre un rapporto corretto con la volontà permissiva di Dio perché altrimenti sulla base di questo si combinano tanti di quei guai e tanti di quelle cretinate che non finiscono mai però diciamo appunto alla Santa Alfonso perché Santa Alfonso spiega benissimo nelle sue opere che se uno demanda a quel paese ricordo se lo ha giudicato da Dio perché ha fatto un peccato mortale ma dalla parte di tu che sei stato mandato tu devi pensare che Dio ha permesso questa cosa perché in quel momento vuole che tu patisca l'umiliazione di essere mandato a quel paese il precedente biblico di questa cosa ce l'abbiamo nell'episodio di Davide e Simeino quando Davide sta scappando da Salonne e sale sull'erta proprio dal monte degli Ulivi scalzo e col volto coperto quindi una cosa assolutamente assolutamente non regale quindi tipica dei poveri degli schiavi delle ritti gli va vicino questo e gli comincia a dire sa che è una sport vattene via tu sanguinario il signore ha fatto ricadere su di te tutto quello che hai fatto a casa di Saul a destra e a sinistra tu sei un sanguinario delinquente pietre addosso polvere addosso umiliazione e vitupele di ogni genere si gira uno gli dice senti un po' io moglie stacco la testa sto cane morto basta che tu mi dai il comando e lui si arrabbia Davide che ho in comune con voi figli di Zeruià se questo maledice è perché il signore gli ha detto maledici Davide addirittura addirittura lo secondo procedimento tipico della teologia vetro-testamentaria non è che dice il signore sta permettendo questa cosa ma nell'antico testamento si attribuisce proprio a Dio la causalità prima senza come dire distinguere quelle cause seconde quindi è tutta volontà intenzionale di Dio come quando si legge così facciamo un po' di formazione Dio indurì il cuore del faraone Dio non ha indurito il cuore del faraone Dio ha permesso che il faraone si indurisse però per manifestare la sua gloria a favore di Israele la strage dei primogeniti la vasco e brae che è il passaggio del mar rosso chiaro? quindi questo bisogna quindi adesso fatte queste premesse andiamoci a sentire il resto che si tocca che assorbire la parte di Maria per la sua purificazione purtroppo figlioli miei cari a noi sto discorso non ci piace a nessuno ma se noi combiniamo qualche guaio poi il nostro Signore necessariamente deve metterci in condizione di purificarlo perché è indispensabile è necessario e dobbiamo semplicemente farci pace fare i bravi ragazzi e prenderci quello che ci dobbiamo prendere zitti e moschi e mosca bene riprendo Maria gettata a terra come uno straccio si inghiozza sotto l'inesorabile accusa del morente che prosegue pronti? avverto che qui ci va pesante uno due dieci amanti l'obbrobrio di Israele passava da braccia a braccia sua madre moriva essa fremeva nei suoi amori sconci belva vampiro hai succhiato la vita a tua madre hai distrutto la nostra gioia Marta sacrificata per te non si sposa la sorella di una meretrice ah io ah io Lazzaro Cavaliere figlio di Teofilo su me sputavano i monelli di Ofel ecco il complice di un'adultera e di una immonda dicevano scribi e farisei e scuotevano le vesti per significare che respingevano il peccato di cui ero sozzo per il suo contatto ecco il peccatore colui che non sa colpire il colpevole è colpevole come lo stesso urlavano i rabbi quando salivo al tempio ed io sudavo sotto il fuoco delle pupille sacerdotali il fuoco tu tu vomitavi il fuoco che dentro avevi perché sei un demonio Maria l'urida sei sei l'anatema il tuo fuoco si apprendeva a tutti perché il tuo fuoco era di molti fuochi fatto e ce n'era per i russuriosi che parevano pesci presi al tramaglio quando tu passavi perché non ti ho uccisa brucerò nella genna per averti lasciato vivere rovinando tante famiglie dando scandalo a mille chi dice guai a colui per il quale avviene lo scandalo chi lo dice ah il maestro voglio il maestro lo voglio perché mi perdoni voglio dirgli che non la potevo uccidere perché l'amavo Maria era il sole della casa nostra voglio il maestro perché non è qui non voglio vivere ma avere perdono dello scandalo che ho dato lasciando vivere lo scandalo sono già nelle fiamme è il fuoco di Maria mi ha preso tutti prendeva per dare lussuria per lei odio per noi e bruciare le carni a me via queste coperte via tutto sono nel fuoco carne e spirito mi ha preso sono perduto in causa di lei maestro maestro il tuo perdono non viene non può venire nella casa di Lazzaro è un letamaio per causa di lei allora voglio dimenticare tutto non sono più Lazzaro datemi del vino lo dice Salomone date del vino a quelli dal cuore straziato che bevano e dimentichino la loro miseria e non si ricordino più del loro dolore non voglio più ricordare dicono tutti Lazzaro è ricco è l'uomo più ricco di Giudea tra parentesi vero facciamo un piccolo inciso quindi Gesù era amico dell'uomo più ricco di Giudea questo vale per poveri 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 chiusa la parentesi andiamo avanti torniamo nel tema principale del delirio questo era un inciso i due trattini Lazzaro è l'uomo più ricco di Giudea non è vero è tutta paglia non è oro e le case nuvole i vigneti le oasi i giardini gli uliveti tutte cose possedute da Lazzaro nulla inganni io sono Giobbe non ho più nulla avevo una perla bella di infinito valore era il mio orgoglio si chiamava Maria non l'ho più sono povero il più povero di tutti di tutti il più ingannato anche Gesù mi ha ingannato perché mi aveva detto che me l'avrebbe resa e invece essa dov'è essa eccola là pare una etera pagana la donna di Israele figlia di una santa seminuda ubriaca folle e intorno con gli occhi fissi sul corpo nudo di mia sorella la muta dei suoi amanti e lei ride di essere ammirata e bramata così io voglio riparare il mio debito voglio andare per Israele dicendo non andate presso la casa di mia sorella la sua casa è la via dell'inferno e discende negli abissi della morte e poi voglio andare da lei e calpestarla perché ha detto ogni donna impudica sarà calpestata come sterco nella via oh hai il coraggio di mostrarti a me che muoio disonorato distrutto da te a me che ho offerto la mia vita per riscatto della tua anima e senza scopo come ti volevo dici come ti volevo per non morire così ecco come ti volevo come Susanna la casta dici che ti hanno tentata e non avevi un fratello a difenderti Susanna da sola rispose meglio è per me cadere nelle vostre maniche e peccare nel cospetto del Signore e Dio fece riducere il suo candore io le avrei dette le parole contro i tuoi tentatori e ti avrei difesa ma tu tu te ne sei andata Giuditta era vedova e viveva nella stanza appartata col cilizio ai fianchi e in digiuno ed era in grandissima stima presso tutti perché temeva il Signore e di lei si canta tu sei gloria di Gerusalemme le tizie di Israele onore del nostro popolo perché hai agito virilmente il tuo cuore è stato forte perché hai amato la castità e dopo il tuo matrimonio non hai conosciuto altro uomo per questo la mano del Signore ti ha resa forte e sarai benedetta in eterno se Maria fosse stata come Giuditta il Signore mi avrebbe guarito ma non ha potuto per via di lei per questo non ho chiesto di guarire non può essere miracolo dove lei è ma morire soffrire nulla è dieci e dieci volte di più e una e una morte purché ella si salvi oh altissimo Signore tutte le morti tutto il dolore ma salva Maria godere di lei un'ora un'ora sola di lei tornata santa pura come nella faccio in ciullezza un'ora di questa gioia gloriarmi di lei il fiore d'oro della mia casa la gazzella gentile dei dolci occhi l'usignolo nella sera l'amorosa colomba voglio il Maestro per dirgli che questo voglio Maria Maria vieni Maria quanto dolore a tuo fratello Maria ma se tu vieni se ti redimi il mio dolore dolce si fa cercate Maria sono in fine muoio Maria fate luce aria io soffoco oh che cosa sento il medico fa un gesto e dice è la fine dopo il delirio il sopore e poi la morte ma può avere un ritorno all'intelligenza fatevi accosto tu in specie ne avrà gioia e riadagiato Lazzaro sfinito dopo tanta agitazione va da Maria che ha sempre pianto alla in terra gemendo fatelo tacere la alza e la conduce al letto Lazzaro ha chiuso gli occhi ma deve soffrire atrocemente tutto un fremito e una contrazione il medico cerca di soccorrerlo con delle pozioni passano del tempo così Lazzaro apre gli occhi pare smemorato di ciò che è stato prima ma è in sé sorride alle sorelle cerca prendere le loro mani rispondere ai loro baci impallidisce mortalmente geme ho freddo e batte i denti cercando di coprirsi sino la bocca geme Nicomete non resisto più ai dolori i lupi mi scarnano le gambe mi divorano il cuore quanto dolore e se così è l'agonia che sarà la morte come farò oh se avessi qui il maestro perché non me lo avete portato sarei morto felice sul suo seno piange Marta guarda Maria severamente Maria comprende quell'occhiata e ancora accasciata dal delirio del fratello viene presa dal rimorso e curvandosi inginocchiato con me contro il letto a baciare la mano del fratello geme sono io la colpevole Marta voleva farlo da due giorni già io non ho voluto perché egli ci aveva detto di avvisarlo soltanto dopo la tua morte perdonami tutto il dolore della vita io te l'ho dato eppure ti ho amato e ti amo fratello dopo il maestro te amo più che tutti e Dio vede se mento dimmi che mi assolvi dal passato dammi pace domina richiama il medico il malato non ha bisogno di commozione è vero dimmi che mi perdoni di averti negato Gesù Maria per te Gesù è venuto qui e ci viene per te perché tu hai saputo amare più di tutti mi hai amato più di tutti una vita di delizie non mi avrebbe non mi avrebbe dato la gioia che ho goduto per te ti benedico ti dico che bene hai fatto a obbedire a Gesù non sapevo so dico è bene aiutatemi a morire Noemi tu eri capace di farmi dormire un tempo Marta benedetta pace mia Massimino con Gesù anche per me la mia parte ai poveri a Gesù per i poveri e perdonate a tutti ah che spasimi aria luce tutto trema avete come una luce intorno a voi e mi abbacina se vi guardo parlate forte ha messo la sinistra sulla testa di Maria e ha abbandonato la destra nelle mani di Marta anela lo sollevano con precauzione aggiungendo guanciale e Nicomede gli fa sorbire ancora gocce di pozione la povera testa affonda e spenzola in un abbandono mortale tutta la vita è nel respiro pure apre gli occhi e guarda Maria che gli sorregge il capo e gli sorride dicendo la mamma è tornata mamma parla la tua voce tu sai il segreto di Dio ho servito il Signore Maria con una voce fatta bianca dalla pena sussurra il Signore ti dice vieni con me servo buono e fedele perché tu hai ascoltato ogni mia parola e amato il verbo che ho mandato non sento più forte Maria ripete più forte è proprio la mamma dice soddisfatto Lazzaro e abbandona il capo sulla spalla della sorella non parla più solo gemiti e tremiti di spasino solo sudore e ranto l'insensibile ormai dalla terra gli affetti sprofonda nel buio sempre più assoluto della morte le palpebre carano sugli occhi invetrati nei quali luccica l'ultima lacrima Nicomede si appesantisce raffredda dice Maria domina è un sollievo la morte per lui tienilo in vita domani è certo qui Gesù sarà sarà partito subito forse ha preso il cavallo del servo un'altra cavalcatura dice Marta e rivolta alla sorella oh se tu mi avessi lasciato mandare prima poi al medico fallo vivere impone convulsa il medico allarga le braccia provo con dei cordiali ma Lazzaro non inghiotte più il rantolo cresce cresce è straziante oh non si può più sentire Gemenoemi sì ha una lunga agonia annuisce il medico ma non ha ancora finito di dirlo che con una convulsione di tutta la persona che si narga e poi si abbandona Lazzaro esala l'ultimo respiro bene un secondo una seconda pausa non molto lunga abbiamo sentito tutto quello che è uscito fuori durante il delirio purtroppo molte delle cose dette da Lazzaro nel delirio erano pure la verità certamente abbiamo sentito la scena di Maria buttata per terra che dice fatelo tacere sicuramente sarà sarà morta nel cuore una grandissima umiliazione anche se evidentemente proveniente da appunto dal delirio del fratello quindi un gesto incolpevole appunto ma proprio perché incolpevole divinamente permesso sapete che è un principio generale che quando in una cosa non c'è proprio per niente la la volontà zero come in questo caso Lazzaro non ha fatto assolutamente nulla di volontario come dire c'è qualche motivo ulteriore ecco per essere diciamo così confermati nel fatto che si tratta di un evento permesso ovviamente a fin di bene dalla divina providenza questo vale per tutte le cose i cosiddetti tra virgolette e anche troppi i virgoletti i castighi di Dio sono tutti così tutti San Luigi Meregrino da Monfort io ricordo quando l'essi quella cosa rimasi veramente folgorato dice che i demoni o demoni se si pronuncia alla latina meglio demoni sono gli esecutori involontari delle sentenze della sua giustizia non soltanto nei guardi dei dannati ma i mali che accadono in questa vita e che sono sempre provocati da loro in molte circostanze ripeto sono provocati da loro per divina premissione anche quando sembrano veramente terrificanti vogliamo fare subito un'applicazione d'attualità guardate che quello che stiamo vivendo a tutti i livelli è opera di Satana ma Satana non avrebbe potuto fare tutto quello che ha fatto se non ne avesse avuto il potere e per chi ci crede per chi ci crede per chi crede e chi conosce per esempio la famosa esperienza di Papa leone tredicesimo quel dialogo il diavolo chiese due cose io posso distruggere io posso distruggere la tua chiesa ma mi serve più tempo e più potere specialmente sui tuoi consacrati cosa ha detto Gesù hai il tempo hai il potere provaci ma non riuscirai a distruggere la mia chiesa distruggere la mia chiesa no e allora come mai questa permissione la risposta per quanto mi riguarda è una sola il far venire a galla il male vedete che cosa succede qui all'azzaro dopo il delirio muore no il far venire a galla il male in questo caso tanti mali purtroppo che si erano annidati dentro la la casa di Dio la sposa di Cristo la colonna del Dio vivente si erano incancreniti e che cosa succede quando una cosa incancrenisce che tu devi farlo uscire fuori allo scoperto e fare in modo anche che si attui una separazione mentre una separazione un giudizio un discrimine tra la parte marcia e la parte sana inviabile perché poi ciò che sopravviverà il famoso trionfo del cuore immacolato è evidente che parte dalla parte sana chiaro o no e per ritrovare una chiesa splendente bella radiosa che cosa deve succedere ci deve essere per forza questa separazione quanto stiamo soffrendo tutti quanti a un incubo assoluto è una cosa dolorosissima ma necessaria e siccome Dio sa che è necessaria noi possiamo pure piangere in cieco slovacco in aramaico in turco in ostrogoto per chi lo sa in cinese in arabo in austriaco ma questo è questo resta dobbiamo affrontarle in un'ottica di fede allora finisco la lettura che così le sorelle gridano vedendo quello spasimo gridano vedendo quell'abbandono maria chiama il fratello baciandolo marta si aggrappa al medico che si curva sul morto e che dice è spirato ormai è troppo tardi per attendere il miracolo non c'è più attesa troppo tardi io mi ritiro domine non c'è più ragione che io resti siate sollecite nei funerali perché già è decomposto abbassa le palpebre sugli occhi del morto e dice ancora osservandolo sventura era un uomo virtuoso e intelligente non doveva morire si volge alle sorelle e si inchina saluta domine salve e se ne va i pianti empiono la stanza maria non ha più forza ormai si rovesse sul corpo del fratello gridando i suoi rimorsi invocando il suo perdono marta piange fra le braccia di noemi poi maria grida non hai avuto fede non obbedienza io l'ho ucciso prima ma tu ora io col mio peccare tu col tuo disubbidire è come folle marta la solleva la abbraccia si scusa massimino noemi marcella cercano indurre tutte e due alla ragione e alla rassegnazione e vi pervengono ricordando gesù il dolore diviene più ordinato e mentre la stanza si affolla di servi piangenti ed entrano quelli preposti alla preparazione della salma le due sorelle vengono condotte altrove a piangere il loro dolore massimino che le conduce dice è spirato al finire del secondo tempo della notte e noemi entro domani occorrerà seppellirlo e presto avanti il tramonto perché viene il sabato avete detto che il maestro vuole grandi onori sì massimino a te ogni cura io sono stolta dice marta vado a mandare i servizi a lontane vicini e a dare ogni altro ordine dice massimino e si ritira le due sorelle piangono abbracciate non si rimprovano più a vicenda piangono cercano di confortarsi passano le ore il morto è preparato nella sua stanza una lunga forma avvolta in bende sotto il sudario perché è già così coperto esclama marta rimproverando padrona puzzava forte dal naso e nel muoverlo ha gettato sangue corrotto si scusa un vecchio servo le sorelle piangono forte l'azzo era già più lontano sotto quelle bende un altro passo nella lontananza della morte lo vegliano con lacrime fino all'alba il ritorno del servo dall'oltre giordano del servo che resta esterrefatto ma che riferisce dicendo della corsa veloce fatta per portare la risposta che Gesù viene ha detto che viene non ha rimproverato chiede marta no padrona ha detto verrò di loro che verrò e che abbiano fede e prima avea detto di loro che stiano tranquille questa non è infermità di morte ma è gloria di Dio affinché la sua potenza sia glorificata nel figlio suo proprio così ha detto ne sei sicuro chiede Maria padrona per tutta la strada ho ripetuto le parole vai vai sei stanco tu hai fatto tutto bene ma è troppo tardi ormai sospira marta e ha uno scoppio clamoroso di pianto e non appena resta non appena resta con la sorella marta perché oltre la morte la delusione Maria Maria non rifletti che il maestro questa volta ha sbagliato guarda Lazzaro è ben morto abbiamo sperato oltre il credibile e non è giovato quando l'ha mandato a chiamare avrò certo sbagliato egli era già più morto che vivo e la nostra fede non ha avuto frutto e premio e il maestro manda a dire che non è fermità di morte il maestro allora non è più la verità non è più oh tutto tutto finito tutto Maria si tormenta le mani non sa che dire la realtà è realtà ma non parla non dice parola contro il suo Gesù piange veramente spossata Marta ha come un chiodo fisso in cuore quello di avere tardato troppo è per colpa tua rimprovera egli voleva provare la nostra fede così ubbidire sì ma anche disubbidire per fede dimostrargli che credevamo che lui solo poteva e doveva dare il miracolo povero fratello mio che lo ha desiderato tanto almeno questo vederlo povero Lazzaro nostro povero povero il pianto si muta in unulo al quale fanno eco oltre la porta gli urli delle ancelle dei servi secondo la consuetudine orientale oh amici cari vedete che questo è oggi un brano proprio drammatico però con tutti i brani drammatici istruttivi adesso le ultime cose di Marta sembrano deliranti ma anche qui purtroppo vi assicuro che è rappresentante di una folta schiera il maestro ha sbagliato e attenzione apparentemente apparentemente proprio mi quasi vergogno di dirlo sembrerebbe questa cosa fondata in re è morto che dice continuate ad avere fede questa malattia non è per un'efermità di morte ma è morto questo c'è un'altra cosa che dobbiamo sempre tenere presente che che Dio sa quello che fa e anche questo se mi posso permettere applichiamolo alla situazione attuale perché io vi dico quello che penso ma non sono il suo la Chiesa sta vivendo adesso le ore della sua agonia ma prima che risorgerà sembrerà morta proprio morta io non so fino a che punto il nostro Signore permetterà che la sua sposa sia umiliata quanto dobbiamo scendere ancora ma di una cosa sono sicuro la Chiesa ci avrà una storia simile a Lanzaro quindi potrefazione cos'altro dobbiamo vedere in giro dopo quello che abbiamo visto negli ultimi 30-40 anni ma ce le ricordiamo tante cose e anche adesso ci sono spettacoli in giro che lasciamo perdere morte e poi e poi pure qualche tempo di sosta nel sepolcro quattro giorni c'è stato per eh e qui bisogna farci la fede qui bisogna farci la fede la fede che sposta le montagne Marte è crollata Maria quasi non del tutto perché dentro di lei sopravvivene questa scintilla che non voleva rassegnarsi e non voleva pensare che il maestro veramente avesse sbagliato ecco lo auguro a tutti noi e mi raccomando non dimentichiamo mai che Dio sa bene quello che fa non si addormenta non prende sonno il custode di Israele in qualunque momento Dio può intervenire e mettere alta loro avevano ragione in qualunque momento sarebbe potuto intervenire ma non lo ha fatto perché non voleva perché voleva farlo quattro giorni dopo la morte non dimentichiamone mai queste cose queste sono le cose in cui è bene riflettere e meditare non le nelle mani che ho visto che si muovono la nuvola strana il cuoricino da qualche queste cose lasciamo le perdere riflettiamo sempre su queste belle e solide verità e dati di fede che ci possono veramente aiutare nei tempi di angoscia e di tribolazione Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga laudantur Iesus et Maria e la Santa Vergine e la Santa Vergine